La situazione a quanto pare è drammatica, sono tanti gli episodi che si stanno susseguendo a Scalea e non soltanto a Scalea, quindi è il momento di alzare la guardia. Mi sono sentito stamattina direttamente con la prefettura e con il comando dei carabinieri e come sempre abbiamo piena fiducia nelle forze dell'ordine che da qui a breve, mi auguro e ci auguriamo, possano far luce sulla situazione. Stiamo valutando unitamente con i carabinieri e con la prefettura di convocare un comitato provinciale per l'ordine della sicurezza e noi chiederemo che si faccia a Scalea. Per il semplice fatto che, ripeto, sono tanti gli episodi che si stanno susseguendo e quindi è il momento ora, come sempre, di fare fronte comune tutti i sindaci dell'alto tirino a Cosentino per far riaccustare ai cittadini la sicurezza che il territorio merita. Cosa sta accadendo? Precisamente non lo so, ma si sta riformando un tessuto criminale e quindi questo è davanti agli occhi di tutti, quindi questo è il momento giusto, è il momento opportuno per alzare la guardia. Noi come comune siamo in fase addirittura d'arrivo per l'installazione delle videocamere sul territorio comunale, quindi questo sarà un ausilio in più per le forze dell'ordine e una sicurezza maggiore per i cittadini. Ma, ripeto, lo dico a gran voce anche ai miei concittadini, questo è il momento dell'unione e non della divisione. Grazie. Grazie. Grazie.